Con il lockdown e lo smart working tutti siamo stati costretti a utilizzare e in alcuni casi anche imparare a utilizzare delle app di videoconferenza e fidatevi di me questa cosa non cambierà anche se e quando passerà l'emergenza prima di tutto perché ha modificato in maniera radicale in maniera molto forte la nostra quotidianità e soprattutto perché abbiamo capito che lavorare in smart working ha i suoi vantaggi io in questi mesi ho provato praticamente tutte le piattaforme di videoconferenza da google meet zoom whereby goto meeting webex skype teams e quella di amazon insomma tutte mi sono fatto chiaramente le mie idee e ho sviluppato le mie preferenze sugli strumenti migliori e devo dire che non sempre uno strumento è adatto a qualsiasi cosa ad esempio io per le riunioni di lavoro utilizzo web ex mentre per amici o magari riunioni super veloci utilizzo altri sistemi alcuni dei quali non posso nemmeno considerarli come dei sistemi di videoconferenza cioè ad esempio le varie app di messaggistica che permettono anche di effettuare delle videochiamate ognuno può avere le sue preferenze e quello che voglio fare in questo video è dirvi quali sono secondo me chiaramente le caratteristiche più importanti e quello che è comodo avere in base alla tipologia d'uso le immagini che vedrete da questo momento in poi a supporto chiaramente del video li ho fatti utilizzando web ex che come detto è lo strumento che io utilizzo per la maggiore e che tendenzialmente soddisfa la maggior parte delle mie esigenze iniziamo da un parametro che secondo me è abbastanza fondamentale cioè la semplicità di utilizzo i più smanettoni non avranno chiaramente problemi interagire con alcuni software perché nella loro natura come dire riconoscere dei pattern di funzionamento e scoprire dove si trovano le varie funzioni ma per i meno esperti potrebbe essere veramente un problema utilizzarli e saltare da un sistema all'altro e anche perché come detto oggi tutti anche i meno esperti devono utilizzare questi strumenti in suggerimento in questo caso è l'uso dello strumento con cui ci si trova meglio tuttavia la semplicità non può essere scelta al posto della sicurezza e altri parametri quindi consideriamolo semplicità quindi per me significa anche affidarsi a uno strumento in grado di offrire un'app ma anche di avere un accesso online tramite un semplice browser che può essere recuperato su qualsiasi sistema e il motivo è che a volte è possibile che dobbiamo fare delle call anche quando non ci troviamo a casa e non ci troviamo nel nostro ufficio non ci troviamo con i nostri sistemi di conseguenza non ci si può come dire legare a un limite di questo tipo se dobbiamo svolgere delle call e lavorare smart working un click al massimo due per me sono i passaggi che devono essere fatti per avviare una videoconferenza in passato questi strumenti potevano anche richiedere più tempo per essere utilizzati ma non oggi non in una situazione dove è necessario dover avviare una conferenza in pochi secondi per qualsiasi motivo e la creazione appunto di una sessione di videoconferenza non deve diventare esso stesso un lavoro oltretutto è necessario che il sistema permetta di condividere facilmente il link della riunione quindi o deve esserci un semplice pulsante all'interno di un'app o addirittura cosa più semplice e naturale fare il copia incolla di un indirizzo di una pagina web che chiaramente può essere poi mandato a tutti i vari partecipanti come volete voi con una mail con un massaggio in pratica non bisogna passare attraverso un sistema che costringa a fare azioni a cui non siamo abituati il copia incolla di un link è una cosa che facciamo tutti più o meno tutti sappiamo fare il cliccare tasti specifici e seguire procedure fatte solo per quell'azione quel servizio invece non è qualcosa di veloce e immediato per quanto riguarda la sicurezza alcuni di noi sono molto sensibili altri chiaramente meno io credo che in ogni caso quando si usa uno strumento per fare un'attività professionale quindi comunque di lavoro bisogna essere sicuri magari non vi succederà mai nulla però è necessario proteggere non solo chiaramente la propria identità e i propri dati ma anche i dati dell'azienda per cui lavoriamo se non lo fate vi state esponendo a un rischio inutile oltretutto questa sicurezza non è qualcosa di cui dovete preoccuparvi direttamente cioè lo strumento non deve costringervi a fare delle azioni specifiche per proteggervi perché altrimenti diventa il suo stesso lavoro deve essere al contrario totalmente integrato nel tool che utilizzate questo è uno dei motivi principali perché come detto io sto usando WebEx dato che implementa una sicurezza a livello sia di applicazione quindi a livello di utente con scrittografia e tutto il resto delle best practice in termini di sicurezza ma anche a livello di server cioè di data center in praticamente tutta la catena è protetta con una sorta di strategia globale per intenderci questo approccio differisce non solo da soluzioni chiaramente meno attente alla sicurezza ma anche da quelle che funzionano su infrastrutture altrui per cui chiaramente non possono garantire la sicurezza su tutta la catena se vi interessa questo argomento nello specifico chiaramente su questo software che è quello che conosco un po' meglio ci sono tonnellate di informazioni che mostrano appunto tutta la catena di sicurezza magari vi lascio un link qui da qualche parte questa è un'altra tematica interessante c'è chi fa molto, chi fa poco, chi fa nulla e chi fa abbastanza però lo fa male ecco quando vi trovate in una conference call con un'altra persona o poche persone spesso si interagisce semplicemente prendendo la parola un po' come quando siete dal vivo ma quando siete con già più di tre persone la situazione diventa complicata a me ad esempio un sacco di volte è successo di voler prendere la parola e dire sì ecco, sì, per me, sì no, scusate, cose di questo genere ma chi sta parlando non ci sente, non ci guarda alcuni strumenti e ti bloccano il microfono insomma è un casino l'interazione primaria di una video call deve essere chiaramente la parte vocale ma devono esserci degli strumenti a supporto che permettono di coordinarsi facilmente con le altre persone senza dover arrivare così a gamba tesa a bloccare una discussione quindi ad esempio una chat decente che faccia vedere se qualcuno ha scritto qualcosa o dei sistemi di interazione che permettono di capire se dovete fare una domanda quindi il classico alzare la mano o qualche espressione di approvazione o meno che possono chiaramente sostituire quei gesti o quegli sguardi che dal vivo in realtà si fanno ma che con una conference call non si possono fare o almeno voi li fate ma pochi li vedono questo si aggancia un po' a quello che ho detto prima cioè quando ho detto che in una videoconferenza deve poter essere fatta e seguita da qualsiasi strumento quindi anche in un normale browser ma ovviamente deve essere disponibile un'applicazione ben fatta per qualsiasi computer per qualsiasi smartphone che sia Android, che sia Apple, che sia un sistema Windows qualsiasi cosa, deve usare in mobilità, con gli auricolari o anche se li utilizza la scrivania perché questo è lo smart working smart working significa anche lavorare dovunque in qualsiasi momento e il dispositivo da cui si effettua la videoconferenza non deve esso stesso rappresentare un limite con durata intendo la durata della videoconferenza stessa cioè qui siamo davanti a un piccolo problema in realtà in diversi casi perché esistono degli strumenti gratuiti e degli strumenti a pagamento o meglio, praticamente tutti gli strumenti sono a pagamento la maggior parte ma offrono anche una versione gratuita quello che non deve succedere è che la versione gratuita sia limitata al punto tale da diventare inutilizzabile questo solitamente si traduce in un set di funzioni chiaramente nella versione gratuita che deve permettere la massima ergonomia d'uso altrimenti, fidatevi, dopo mezzo secondo vi girano già le balle e volete cambiare strumento e la durata è spesso uno dei punti più a rischio perché tu puoi anche mettere a disposizione lo strumento migliore del mondo ma se poi mi limiti la durata massima delle call che posso fare a 10 minuti me ne faccio poco o nulla per esperienza ogni call di cui bisogna discutere di qualcosa di importante dura almeno una mezz'oretta tre quarti d'ora più o meno questo è il tempo quindi controllate questa caratteristica quando state scegliendo la vostra soluzione preferita perché deve essere, come dire, sufficiente per la vostra tipologia di call più vi avvicinate all'ora secondo me meglio è e subito legato a quanto appena detto valutate il costo perché chiaramente a volte è necessario andare oltre a quello che offre una versione gratuita di un software e il costo deve essere sostenibile soprattutto se ce lo mettete di tasca vostra mediamente stiamo parlando di una decina di euro al mese o poco più e solitamente anche il piano premium più economico è in grado di offrire molto e più che sufficiente per la maggior parte di noi dalle riunioni a tempo limitato o di tante ore che si può considerare praticamente virtualmente illimitato alla possibilità di registrare la sessione direttamente nel cloud nel caso in cui ad esempio non vogliate voler registrare sul vostro computer o la possibilità di far partecipare persone chiamando dal telefono a un numero gratuito e tanto altro ecco amici queste secondo me sono le voci che dovreste considerare nella scelta del vostro sistema preferito di videoconferenza quello che vi ho mostrato come detto a inizio video è tratto dallo strumento che io utilizzo per la maggior parte che è Webex che io utilizzo in versione gratuita l'ho scelto principalmente per un mix di funzioni avanzate abbinati alla durata delle chiamate che appunto anche in versione gratuita non è limitante e ovviamente anche per quel layer di sicurezza su cui ho battuto prima dato che lo uso quasi esclusivamente per lavoro e quindi è necessario come dire proteggere le conversazioni che si fanno valutate bene e scegliete il vostro sistema preferito così evitate di saltare continuamente da un software all'altro da avere problemi adesso non va il microfono adesso non va la webcam e ci mettete del tempo investite del tempo male nel capire come funzionano tutti i vari strumenti poi chiaramente vi ritroverete a dover utilizzare anche altri però scegliete il vostro preferito e vi assicuro che vi faciliterà la vita e le vostre giornate in smart working io amici vi ringrazio per avermi seguito in questo video vi raccomando lasciate un mi piace iscrivetevi al canale noi ci vediamo in un altro video ciao ciao Grazie a tutti.